Oggi è stato un bel test con il Sporting Pitonia che fa la prima categoria, abbiamo visto delle buone giocate, siamo andati davvero bene, oltre il risultato si sono viste delle ottime giocate, logicamente il caldo poi ha influito sul rendimento, c'è tanto da migliorare, abbiamo messo, serviva per mettere benzina sulle gambe, nelle prossime amichevoli sicuramente si vedrà qualcosina ancora in più. La prossima amichevole andiamo a Pelladriana, una compagine molto forte, molto attrezzata, anche lei una prima categoria, hanno fatto un'ottima squadra per cercare di far bene, sarà un amichevole difficile ma per noi è fondamentale per mettere a posto alcuni meccanismi, sicuramente sarà un test davvero importante per cercare di fare bene e di collaudare tutti i vari reparti. Allora sicuramente è la squadra che ci ha messo a disposizione, il Presidente con Vittorio e con Manolo e con Cristiano è una squadra di alto livello, dobbiamo appunto come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di migliorare sotto alcuni aspetti, però la squadra è una squadra davvero competitiva e sicuramente lotteremo per fare qualcosa di buono e migliorare la posizione dello scorso anno.